Ci troviamo nella cornice del giardino di Villa Borgognoni dove da giovedì 5 luglio tornerà per la quinta edizione Equa la Festa, tante associazioni coinvolte e tanti appuntamenti, ne parliamo con Consuelo Paris di Spazio Ostello e Viaggi e Miraggi Marche, che edizione sarà questa quinta di Equa la Festa? Allora questa quinta edizione avrà come titolo Vivi e Convivi perché ecco il messaggio principale è della convivenza con altre culture, con altri modi e stili di vita, con diciamo qualsiasi persona di razza, religione, cultura e ecco questo in principale modo. Quante le realtà coinvolte e quali gli appuntamenti su cui in particolare puntare l'attenzione? Allora innanzitutto le realtà coinvolte sono diverse perché siamo un gruppo di associazioni, Spazio Ostello è un po' l'associazione che promuove questo evento e che fa un po' da capofila ma siamo diverse realtà tra cui Reggio, Emergency, Mondo Solidale, Ampi, Libera contro le mafie, Cooperativa Zanzibar, Casa delle Culture e Arci insieme, Centro Studi Libertari, Viaggi e Miraggi Marche, Avvocati di Strada, Gus, Corto Dorico e poi ovviamente con il patrocinio del Comune di Iesi, con la Rete di Economia Etica e Solidale delle Marche e la Regione Marche. Come tutti gli anni c'è sempre il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato che ci sostiene con diversi servizi. Importanti momenti di riflessione alle ore 19 delle tre giornate, da migranti a cittadini giovedì, poi venerdì 6 e luglio si rifletterà su città antica e città contemporanea. Sabato 7 si parlerà anche del confine ambiguo tra crimine e legalità, la banda della Magliana e la scomparsa di Monello Orlandi, parteciperà tra l'altro lo iesino Giacomo Galeazzi, il vaticanista della stampa e si tornerà anche a parlare del lusso sociale dei beni confiscati ai poteri criminali, quel potere tuffi di Cupra Montana che tramite l'Associazione Libera torna a disposizione del sociale. Esatto, infatti questi momenti sono i più importanti di Ecola Festa dove si fa festa ma bisogna anche parlare di argomenti che fanno riflettere, che fanno un po' smuovere anche le coscienze e l'informazione va diffusa un po' a tutti, quindi si fa festa ma comunque ci si impegna anche un po'. E in serata ricordiamo anche gli appuntamenti con la musica? Sì, ci sono quindi i concerti del giovedì sera con Stephen Dedalus e invece il venerdì sera con le danze del Terre del Sud e musiche d'amore e disamore del gruppo Malagapi e la compagnia Solistizio Mediterraneo quindi si ballerà molto. Invece il sabato è una novità di quest'anno perché abbiamo pensato di coinvolgere una compagnia teatrale di Torino che fa comunque teatro civile e ci sarà uno spettacolo di teatro musicale quindi comunque ci saranno musiche ma anche teatro insieme su degli argomenti che faranno riflettere ma ridere allo stesso tempo.